Buonasera a tutti, siamo a Policoro in Piazza Segni, vi facciamo vedere la magia dello swing. Centinaia di persone che stanno ballando. Con noi c'è il direttore artistico di Policoro Swing, Franco Bontraddolfi, ti stai divertendo Franco? E come fai a non divertirti? È una gioia, è uno spirito pieno di gioia, guarda qua, è una festa straordinaria. E guardiamo ancora! Per tre sere consecutive qui si ballerà, stasera fino a mezzanotte passa, domani sera e domenica sera. Franco ci abbiamo un minuto di calma, come si chiama questo gruppo che poi lo riprenderemo? Questi sono un gruppo di musicisti svedesi, si chiamano Orgasand Ramblers, loro vengono dalla Svezia e sono fra le band più pure, più pure nel panorama del jazz swing internazionale. Ce l'avremo per noi per tutta la settimana, è già da l'America. Swing, dacci una definizione, tu ormai sei un maestro, da quanti anni si tiene Policoro in Swing? Questi sono dieci anni, ottava edizione perché per due anni siamo stati fermi, l'ottava edizione quindi sono dieci anni che Policoro ha sviluppato questa idea di raccogliere tutta questa comunità. Dacci la definizione prima che inizino a suonare! di bellezza, di gioia e di condivisione soprattutto. E allora ci riprendiamo lì, come si chiama il gruppo Orgasand Ramblers. Orgasand Ramblers Svezia! La magia dello swing in diretta per voi, da Policoro, Piazza Segni. Dalla Svezia a Policoro, di Orl Skatan. A solo di chitarra, è contrabbasso. E vedete i ballerini come si stanno scatenando. Piazza Segni, gremita in ogni ordine di posti. Eccolo Segni, che guarda serio i ballerini dello swing. canale! breath theneri subito! e raccogliare Franco le prossime sere dici qualcosa grida però domani sera avremo sempre in piazza segni gli Hop Sugar Band con Nicola Correa un'altra serata grandiosa domenica avremo la jazz sailor jazz band ok grazie Policoro piazza segni cremita con i ballerini felici e contenti arrivederci non so se ci sentiremo le voci non fa niente senti mai fare da là una panoramma te lo puoi vedere tra dieci minuti Filippo Mele giornalista io mi vado a mettere il titolo di visualizzazione questo è bellissimo questa è una polla ma scherzi tu tanta energia tu ti una botta e quando ti arriva? ma quando ti arriva? si si qua dall'Olanda quest'anno madonna da dove si è venuto? si 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 adessi mi vado a mettere il titolo e non so se ti sentiremo le voci che si mi vado a mettere il titolo